Il silenzio è un passaggio fra i mondi. Facendo tacere la mente, emergono aspetti incredibili del nostro essere. A partire da quel momento, la persona si rende veicolo dell'intento e tutti i suoi atti cominciano a trasudare potere. Poiché va contro tutto ciò che ci è stato insegnato fin da bambini, il silenzio deve essere intentato, con spirito di combattimento. Noi stregoni di oggi ci proponiamo di passare per il mondo senza richiamare l'attenzione, trattando tutto allo stesso modo. Un guerriero si fa padrone della situazione, nel bene o nel male, perché c'è qualcosa di tremendamente efficace, nell'agire senza la mente. Gli chiesero di darci degli esercizi pratici per arrivare al silenzio. Rispose che quella era una questione molto privata, poiché le fonti del dialogo interno si alimentano proprio della nostra storia personale. Comunque, attraverso millenni di pratica, gli stregoni hanno osservato che in fondo siamo tutti molto simili e ci sono situazioni che hanno l'effetto di fare arrivare al silenzio tutti. Dobbiamo ricordare, comunque, che finché ci imponiamo il silenzio non saremo mai veramente là, bensì nell'imposizione. È necessario imparare a trasformare la volontà in intento. Il silenzio è tranquillo, è un abbandonarsi, lasciarsi andare. Produce una sensazione di assenza come quella che ha un bambino quando sta guardando il fuoco. Che meraviglia ricordare quel sentimento e sapere che lo si può evocare di nuovo. Il silenzio è la condizione fondamentale del cammino. Io ho passato lunghi anni battagliando per trovarlo, e tutto ciò che ottenni fu impigliarmi nel tentativo stesso. Con il chiacchiericcio abituale che da sempre aveva luogo nella mia mente, mi rimproveravo di non comprendere che cosa Don Juan si aspettasse da me. Tutto cambiò un giorno, mentre stavo contemplando distrattamente degli alberi. Il silenzio si avventò da essi su di me, come una fiera, fermando il mio mondo, e gettandomi in uno stato paradossale in quanto nuovo e conosciuto insieme. La tecnica di osservare, cioè di contemplare il mondo senza idee preconcette, funziona molto bene, con gli elementi. Per esempio, con le fiamme, le cascate d'acqua, la forma delle nubi o il calar del sole. I nuovi veggenti lo chiamano ingannare la macchina perché, in poche parole, consiste nell'imparare a intentare una nuova descrizione. Uno deve lottare audacemente per trovarlo, ma poi, una volta che è successo, il nuovo stato di coscienza. Si mantiene con naturalezza. È come mettere il piede in una porta mezza aperta. A quel punto è soltanto questione di accumulare abbastanza energia per passare dall'altra parte. L'importante è che il nostro intento sia intelligente. Non serve a niente sforzarsi di arrivare al silenzio, se prima non gli creiamo le condizioni favorevoli perché si è sostenuto. Pertanto, oltre ad esercitarci nell'osservazione degli elementi, un guerriero è obbligato a fare qualcosa di molto semplice, ma molto difficile, ordinare la sua vita. La sensazione di avere tempo è un equivoco che ci porta a sprecare l'energia con ogni tipo di impegni. Quando un uomo si connette al silenzio interno dà un valore nuovo al suo tempo. Quindi un'altra forma di definirlo è dire che il silenzio è un'acuta consapevolezza del presente. Un metodo infallibile per trovare il silenzio è il non fare, un'attività che programmiamo con la nostra mente, ma che ha la virtù, una volta posta in marcia, di far tacere i pensieri. Don Juan chiamava questo tipo di tecnica, togliere una spina con un'altra. Come esempio di non fare, fece quello di guardare nell'oscurità, cambiando la priorità dei nostri sensi. E il comando che ci obbliga ad addormentarci, appena chiudiamo gli occhi. Oppure il conversare con le piante, mettersi a testa in giù, camminare all'indietro, osservare le ombre, la distanza o gli spazi fra le foglie degli alberi. Tutte queste attività sono tra le più efficaci per fare tacere il nostro dialogo, però hanno un difetto. Non possiamo sostenerle a lungo. Dopo un po' ci vediamo costretti a recuperare la nostra routine. Un non fare, che venga esagerato, perde il suo potere e cade nel fare. Se ciò che vogliamo è accumulare silenzio profondo, di effetto durevole, il miglior non fare è la solitudine. Rimanere soli richiede un grande sforzo, perché ancora non abbiamo imparato come superare il comando genetico della socializzazione. È normale che gli stregoni cerchino il silenzio nella solitudine della montagna o del deserto e che vivano da soli per lunghi periodi. Qualcuno fece il commento che quella era una prospettiva orrenda. Castaneda rispose, orrendo è arrivare ad essere vecchi come bambini piagnocolosi. L'esistenza dell'uomo comune è di una desolazione straziante, cerca sempre compagnia ma non trova se stesso. La solitudine del guerriero, invece, è come il nascondiglio degli innamorati cercano un angolo remoto, per scrivere poesie, al loro amore. E il loro amore è dappertutto. Quindi, ovunque vada, il guerriero si lascia andare alla sua storia d'amore. Don Juan incitava sempre chi gli stava attorno ad avere una storia d'amore con la conoscenza. Soltanto una storia d'amore appassionata con il sapere può darci la forza di non tirarci indietro. Quando i segnali puntano in direzione dell'ignoto. Quando il suo cammino non corrisponde più alle aspettative umane. Quando lo conduce a situazioni che sfidano la ragione, allora, si può dire che un guerriero ha intrapreso una relazione intima con la conoscenza. Gli stregoni antichi solevano usare piante di potere per fermare il dialogo interno. I guerrieri di oggi preferiscono condizioni meno rischiose e più controllate. Gli stessi risultati prodotti dalle piante possiamo ottenerli quando ci mettiamo spalle al muro. Affrontando situazioni limite, come il pericolo, la paura, la saturazione sensoriale e l'aggressione, qualcosa in noi reagisce e prende il controllo. La mente si pone in allerta e sospende automaticamente il suo parlottare. Porsi deliberatamente, in quelle situazioni si chiama agguato. Gli chiesero se anche spostare il punto di unione attira il silenzio. Rispose, al contrario, il silenzio interiore induce dislocamenti del punto di unione che sono cumulativi. Una volta raggiunta una certa soglia, il silenzio può trasportare il punto, a grande distanza, ma non prima. Disse che la forza del consenso collettivo possiede una certa inerzia che varia da persona a persona, secondo le caratteristiche energetiche. La resistenza della descrizione del mondo può andare da qualche secondo ad un'ora, ma non è eterna. Vincerla, mediante un intento sostenuto, è quello che gli stregoni chiamano arrivare alla soglia del silenzio. Questa rottura si sente fisicamente, come uno schiocco alla base del cranio o come un suono di campana. Dopodiché, è questione di quanta forza è stata accumulata. Ad esempio, c'è chi ferma il dialogo, per qualche secondo, ed immediatamente si spaventa. Comincia a chiedersi delle cose, e a descrivere a se stesso, ciò che sente. Oppure, ci sono altre persone, invece, che imparano a rimanere in quello stato, per ore o giorni. Per esempio i miei libri, su richiesta di Dong Kwan, li ho scritti in uno stato di silenzio. Ma gli stregoni con esperienza, vanno anche più lontano, e possono entrare in forma definitiva nell'altro mondo. Conobbi un guerriero, che viveva quasi permanentemente là. Quando gli chiedevo qualcosa, mi descriveva ciò che stava vedendo, senza curarsi che quella risposta fosse coerente con la mia domanda. Viveva al di là, della mia sintassi. Dal mio punto di vista di apprendista, naturalmente, era matto. Nonostante sia indefinibile, possiamo misurare il silenzio, attraverso i suoi risultati. L'effetto finale, quello che gli stregoni cercano con avidità, è che ci sintonizza, con una dimensione magnifica del nostro essere, nella quale abbiamo accesso ad una conoscenza istantanea e totale, che non è composta da ragioni, ma di certezze. Le antiche tradizioni descrivono quello stato come il regno dei cieli, ma gli stregoni preferiscono chiamarlo, con un nome meno personale. La conoscenza silenziosa. Si può dire che un uomo, che domina il silenzio, ha ripulito e ripristinato la sua unione con lo spirito, e il potere discende a fiumi su di lui. Uno schiocco di dita. E il mondo è un altro. Don Quan si riferiva a quello stato, come il salto mortale del pensiero. Perché partiamo dal mondo di tutti i giorni, ma non vi ricadiamo più? Nelle prime tappe del cammino, è molto difficile affrontare il silenzio come pratica, perché appena scopriamo l'assenza di pensieri, sorge una vocina, che si congratula con noi per questo. Il che automaticamente interrompe lo stato. Il problema capita perché confondi l'obiettivo degli stregoni con un ideale. Il concetto di silenzio è troppo tenue per una mente come la tua, abituata alle classificazioni. Ti sei proposto l'esercizio in termini uditivi, come mancanza di suono. Ma non è così. Quello che vogliono gli stregoni è qualcosa di più semplice. Fanno in modo di resistere alle suggestioni. Se riesci a farti padrone della tua mente e a pensare senza giudizi anticipati o false convinzioni, potrai annullare la parte addomesticata della tua natura. Una volta che impariamo a come ovviarli senza sentirci offesi né prestar loro alcun tipo di attenzione, i comandi della mente resteranno dentro di noi per un po' di tempo e poi se ne andranno via. Quindi non si tratta di tirarli fuori da dove sono, ma di ammazzarli per sfinimento. Quando diamo una scossa a quell'ordine, quando mancano alcuni pezzi che abbiamo sempre dato per scontato, tutto lo schema comincia a sbriciolarsi. Succede lo stesso con le routine della mente. Cambia un parametro e improvvisamente c'è una porta aperta, dove prima doveva esserci un muro e questo cambia tutto. La mente rabbrividisce. Tu, come qualunque apprendista di stregoneria, hai un campo enorme dove addestrarti. Per esempio, i tuoi alti e bassi emozionali, le tue perdite di energia. Falli smettere e vedrai come cambiano le cose. Ci sono quelle otto ore che passi ogni notte come un vegetale senza renderti conto di niente. Esplora quelle pause, prendi il controllo e osa esserne testimone. Se individui i segreti del tuo sognare, finirai per vedere quello che vedo io, e nella tua mente non ci saranno più dubbi. Posto che ciò che distingue gli uomini non è ciò che sanno, ma quanta energia possiedono, la vera forma di trasmettere la conoscenza è in stati di coscienza espansa. Grazie. 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 Grazie.